È un Piggy, un Piggy lo potrei tenere tranquillamente Se lo vedo eh Ho fatto il flashlight save, puoi annullare la bet, l'ho fatto troppo presto C'è l'acqua delle trappole probabilmente Non ho idea di come mi abbia raggiunto così velocemente Ma è straveloce la mia impressione raga Raga ma è straveloce la mia impressione Ma mi sa che citta raga questa Guardate quanto corre No 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 no, guarda la sua velocità di corsa Mi sa che citta questa raga Raga va tipo a 5.0, non sto scherzando Guarda anche col surveo in braccio quanto corre Ma l'ho visto anche nel chase con lei eh Mi sa che questo citta sul serio Guarda 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 quant'è veloce mentre shifta Guardala Guarda mentre croucha quanto è veloce Guarda la sua velocità mentre è crouchata Quanto cazzo citta Va che roba guarda guarda c'è due milioni di speed Guardala Bro ma stai scherzando? Bro ma va a 200 all'ora ma cazzo che cringe Almeno non mi raggiunge col tizia in mano Guarda sacca è lì Lo sapeva ancora prima Secondo me c'è anche i walls Vorrebbe avere l'abilità però mi secondo me è croucha per finta No ma va davvero troppo veloce Cheating how? Is running way too fast She's running like 5.0 She's way too fast for a killer Ah vuoi conarmi ok Ecco Vabbè Sto dicendo minchè si cura in fretta E invece Ah mi sa che c'ha No non c'è Sì non ho sentito i cheat è in difficoltà Non so proprio che pigga da essere frenzy Ma secondo me è a Alla velocità il blight L'avete visto quel lunge attack raga L'avete visto quel lunge attack Quanto sei cringe Sì ciao Cringe il maledetto C'ha pure resistente Questo è poco ma sicuro Fuck mi ha finito la torch Non potrebbe essere play with your food No perché stava hittando l'Africa E ha trovato quella Mentre non era crauciata Sì 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 C'è da sempre attivo play with your food Vinci Non credo proprio Avrebbe già perso i stack Da no anche Oh guarda come mi corre in fretta Sai che c'ha cose butaniche Può essere La shock andrà normale però Sembrava di sì Forse Non te lo saprei dire Devi considerare che tutto il tempo dietro un muro Io non lo vedo Se pubblichi sto game Nerfano il pig Ma secondo te i devs Sanno anche minimamente chi sono No non cambia raga Va davvero bloodlust rally Infine come dice trogo È davvero troppo veloce Qualsisi perca Magari non ha resistente Vediamo se non ha resistente Quella è una bella cosa Se non ce l'ha Perché se non ce l'ha È ovvio che c'hitto Ho finito la torcia Mi spiace signorina Spero di essere raggiunto un livello ai perk Beh sì I perk possono assertire Uno, due, tre Gialli, verdi e viola Vediamo quanto citta In realtà non mi aveva visto subito Forse li ha disattivati Perché stava vincendo Ok Aspidfeure enduring Aspidfeure enduring Save the best for last Eh peccato Aspidfeure enduring Save the best for last Sicuro ce li ha Bloodlust rally all'infinito Brutal anche Può essere Vabbè che vinge Ciao ballora Ma ciao Ogni volta che guardo le live su Twitch Mi addormento col telefono in mano Chi è che citta La pig Il killer bug Se l'hai a vedere all'inizio Andava a 200 all'ora E faceva dei lunge attacchi Dalla madonna Ma probabilmente ce li ha Anche i perk Tanto No Non devi mai croucharti Perché save the best Ma non venire qui da me Minchia quanto casino fa Curarsi dal mending No non ha play Bacca Anche se avessi play L'avrebbe già consumato tutto Non riesco a farlo Sembra che abbia tipo anche barbecue In un certo senso Ma perché il cane Non procca il perk del knight Quello che rivela ai sorvicini Perché devi calciarlo tu fisicamente Feldrin Quando prima era crociata Bacca andava più veloce Di quando camminava Considera Per farti capire Eh già E' ottimo content Per youtube Non capisco come fa curarmi così in fretta Questo onestamente Poi usa il medikit No neanche Oh sorry Neanche con gli addon Non quanto cammina Considerate 10% Ma dovete considerare Che E' pochissimo il 10% E' tipo 0.3 Perché Perché il 0.3 0.38 Dovrebbe essere Perché il killer E' tipo veloce Quanto una nurse Mentre è crociata Per farvi capire La velocità base Della pig Mentre è crociata Ha vinto citando Mo ha vinto Una casa E una macchina Applausi Sì sì Ha citato all'inizio Per prendersi il vantaggio Ha fatto consumare Tutti i pallet Subito Perché Con la velocità che andava Dovevi per forza Droppare subito il pallet Non potevi fare più di un loop E Basta Cioè Ha bussato così Guardate Eh Allora sono 0.4 0.4 Le dite che 3.8 Vai a 4.1 Forse Sai che sono qua Sai che sono qua Te debesco Lo carry anche Avete visto Che velocità Presa nel salire Le scale L'ho visto solo io Ditemi di no Vi prego raga Ditemi che avete visto Anche voi che è andato A 200 all'ora Per salire la cazzo Di scala Una Ferrari No no È velocissimo Ok ok Vabbè GG Che cazzo Gli dobbiamo dire Se debba essere Un Spirit Fury Brutal Può essere Quanto Non lo so Stava creando Sì Quanto stava creando E talmeno Il 130 Se non di più Mh Mo si scopra la verità La build Era giusta E no Non aveva Quello che lo Velocizza Nel Nel Crauciare Ehm Spita Ehm Andai recommend Eh buon per te Cazzo di dove dire Sei cheat Ehm